Rinviata la discussione sulla delibera regionale taglia ospedali, non se ne è parlato ieri in consiglio regionale l'argomento con ogni probabilità verrà affrontato la prossima settimana. Sta seguendo da vicino la partita il gruppo politico Menia si cambia che nelle ultime settimane si è avvicinato al comitato salviamo gli ospedali e la sanità piemontese. Se dovesse passare il referendum ci impegniamo ad affiancare il comitato nella promozione di con i componenti della lista civica cappeggiata dal candidato a sindaco Mauro Empolesi altrimenti avvieremo altre iniziative per la difesa d'oltranza dell'ospedale Madonna del Popolo e per la riapertura del punto di primo soccorso nell'arco delle 24 ore. Inoltre aggiungono non vogliamo assolutamente il primato di questa battaglia ma vogliamo scuotere le coscienze degli omeniesi nel caso in cui non verrà accettato il referendum siamo pronti a collaborare con tutte le forze politiche per raggiungere l'obiettivo. L'unione insomma fa la forza e nessuna tematica richiede più coesione di questa. Poi omenia si cambia spiega una cittadina dalla vocazione turistica come omenia non può essere privata di un servizio così importante come quello del pronto soccorso ci preoccupa moltissimo il ritardo della firma dell'accordo tra l'asla del viceo al coca è necessario quindi chiedere un impegno preciso alla regione piemonte l'unico organismo che potrebbe sbloccare la situazione rivedendo la delibera che blocca di fatto la possibilità di accreditare quindi finalmente stabilizzare l'esperienza pubblica privata dell'ospedale omenese.